Il sindacato Snalv Confsal Sanità Salerno, in una nota stampa, invita il sindaco Sansone a convocare un'assemblea urgente dei primi cittadini cilentani. Nella nota si legge La grave emergenza Covid ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale e nel contempo ha decretato l'importanza della sanità pubblica. Nel nostro territorio il diritto alla salute è chiaramente compromesso mentre la politica è assente. Gli ospedali dell'Asla Salerno soffrono, quelli dell'area sud sono al collasso. In particolare il DEA di Vallo Agropoli vive una situazione drammatica e riesce ancora a dare risposte solo grazie agli sforzi degli operatori, costretti a fare tantissimo straordinario. Si registrano quindi gravi carenze di risorse umane, di attrezzature, carenze di barelle, biocontenimento e, come è noto, negli ultimi giorni scarseggiano anche i tamponi. In un'intervista il sindaco di Agropoli ha manifestato la propria preoccupazione per la mancanza di tamponi ricordando il lavoro fatto dal laboratorio analisi dell'ospedale di Agropoli, dove vengono eseguiti anche tutti i tamponi del personale del presidio San Luca, ma il sindaco di Vallo ha insediato sì da poco. Cosa ne pensa? Stimato medico già dipendente dell'ospedale San Luca, nei comizi delle ultime elezioni amministrative, ha spesso fatto riferimento al comune di Vallo, prospettandolo come un comune capofila. In un discorso complessivo di tutto il territorio occidentano parlava di unità e crescita della nostra Vallo, ma se ai cittadini non si garantisce il diritto alla salute, di quale crescita si può parlare? L'ospedale San Luca poco a poco si sta sgretolando, possibile che l'attuale amministrazione vallese non se ne è accorta, il comune di Vallo deve tutelare l'ospedale di Vallo, il DEA Vallo Agropoli. Mentre la sanità pubblica del nostro comprensorio va verso una progressiva decadenza, la sanità privata è sempre più fiorente e ormai i cilentani hanno ben capito che ciò non avviene per incantesimo, bensì per scelte politiche scellerate. Lo scrivente operatore sanitario già mesi fa aveva sollecitato gli altri sindacati per un'azione unitaria, purtroppo senza esito. Adesso ci rifacciamo promotori di un comitato per la salvaguardia del diritto alla salute che raccolga la sensibilità dei cilentani fino a vere e proprie mobilitazioni. Oggi più che mai è necessario un intervento comune per salvare in primis l'ospedale San Luca, ovvero una sinergia tra tutte le forze sindacali, parti sociali, amministrazioni locali e politici, possa essere propositiva attraverso tutte le iniziative che si renderanno necessarie collaborando ognuno per il proprio ruolo. Anche il senatore Castiello tempo fa si era fatto vedere all'ospedale San Luca per risolvere la criticità. E poi tabula rasa. È necessario un coinvolgimento di tutti i politici del territorio, tutti i sindaci dell'area sud, quindi dei comuni del distretto 70, chi può farsene promotore se non l'amministrazione di Vallo, chiediamo al sindaco di Vallo di convocare un'assemblea urgente dei primi cittadini cilentani per affrontare uniti le problematiche del presidio ospedaliero San Luca. Vogliamo lottare insieme per l'ospedale San Luca e per la salvaguardia dell'assistenza sanitaria. Non ci interessano le appartenenze politiche, la sanità pubblica è di tutti e per tutti.